Domenica in, Albano lo schiaffo a Romina Power? Bomba! Che cosa è successo? Sarà una sfida allultimo ospite altisonante quella tra Barbara Durso e Mara Vernier. Le due, infatti, inviteranno la famiglia Albano, Romina Power e Leciso. Romina Power sarà una delle ospiti di Mara Vernier Domina In. Ma Albano? Andrà forse dalla Durso?. A quanto pare, il cantante di Cellino San Marco ha deciso di optare per lospitalità della bella Mara Vernier. . Albano a Domenica in da Mara Vernier. Un vero schiaffo a Romina Power quello di Albano. . Il cantante ha deciso di accettare l'invito dell'amica Mara Vernier proprio come ha fatto l'ex moglie. Sicuramente Romina non sarà contenta. Era lei l'ospite speciale della Domenica in Rai. . Lo cantante sarà sulle poltroncine di Mara solo alla terza puntata. . Ancora non è noto se Albano sarà tra i primi ospiti di questa stagione. . Il cantante sarà intervistato dalla zia e racconterà dei suoi progetti e della sua vita privata. . Albano, accetta l'invito della Vernier. . Indiscrezioni molto quotate rivelano, infatti, rivelano che il cantante pugliese non abbia avuto esitazioni, anzi. . Non avrebbe avuto alcuna riserva ad accettare l'invito. . Il motivo? Albano è molto amico della Vernier e con lei si sente come a casa. . Infatti, ha rivelato. . È sempre un piacere andare ospite da Mara, mi sento come se fossi a casa sua. . Nell'intervista nel contenitore domenicale di Rai uno parlerà della sua lunga carriera e sicuramente salteranno fuori indiscrezioni sul suo privato. . Ne vedremo e ne sentiremo sicuramente delle belle. Mara sa come mettere a proprio agio gli ospiti e sicuramente lascerà che il cantante parli senza troppi filtri della sua vita. Fonte di interesse per tantissime persone famose e non. . Non ci resta che aspettare domenica. .